Il Comando Provinciale della Guardia di Finanze e ufficiali dell'ADM di Napoli hanno individuato all'interno del porto, nel contesto delle attività congiunte di analisi di rischio in ambito doganale, oltre 1.900 biciclette con componenti di un noto gruppo industriale contraffatti. In particolare sono stati sottoposti a controllo 8 container provenienti dalla Cina che erano destinati a due società campane amministrate e partecipate al 100% dalla stessa persona fisica. Adattare l'attenzione dei finanzieri del secondo gruppo e dei funzionari ADM sono stati alcuni dettagli dei prodotti esaminati, come il peso e la qualità dei componenti, su cui erano apposte sigle evocative di un noto marchio industriale giapponese. Interpellata la multinazionale titolare dei marchi, la stessa ha confermato la contraffazione in atto, che avrebbe fruttato all'organizzazione della frode ricavi per oltre un milione di euro. Le biciclette sono state sequestrate e il titolare, non che amministratore delle due società, è stato denunciato per contraffazione alla procura della Repubblica di Napoli.